Red Dead Redemption Red Dead Redemption Red Dead Redemption La fuga è una missione in più parti in cui i giocatori dovranno rubare le carrozze dei membri di una gang, usare il mitragliatore Gatling o i fucili a canne mozze per dissuadere gli inseritori e finalmente far fuori il resto delle gang a Tumbleweed. In La ragazza rapita bisogna salvare la figlia di un proprietario terriero. Sfondate i cancelli Uccidete i rapitori E portatele in salvo alla fattoria. Se un amico viene ferito, una dose rapida di medicina lo salverà. Stai solo attento a non farti sparare, mentre lo curi. Munizioni Multiplayer con Red Dead Redemption